Canale 5 è un canale televisivo italiano privato generalista nazionale, edito da Mediaset. La rete è di tipo generalista, ed è orientata alle famiglie offrendo principalmente intrattenimento, cinema e telefilm. Grave lutto nel mondo della televisione. La nota attrice, amata dal pubblico televisivo, ha perso la vita insieme alla figlia in tragiche circostanze. Ecco di chi si tratta. E. Melatici. L'attrice della SOP turca Terra Amara, è morta insieme alla figlia a causa del devastante terremoto che ha colpito la Turchia. La donna era nota in Italia per la sua partecipazione alla fiction, che va in onda sul canale Mediaset da lunedì al venerdì. La casa di produzione della SOP, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell'attrice e della figlia, siamo profondamente addolorati, per la perdita, di E. Melatici, e di sua figlia, Purian. La preziosa attrice della nostra serie TV Cucurova. A Emel e alla sua amata figlia, a tutti i nostri cittadini che hanno perso la vita nel terremoto, Dio esprima le nostre condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Emelatici aveva studiato presso la facoltà di teatro dell'Università Cucurova, nella città di Adana. Una volta stabilitasi nella città, aveva iniziato a lavorare al teatro di stato di Adana, che le aveva dato l'opportunità di conquistare un pubblico anche lontano dallo schermo. Facciamo le nostre più sentite condoglianze ad amici, parenti e familiari dell'amata attrice.